Giovane donna di Baiano si toglie la vita sparandosi un colpo di pistola al petto. La tragedia, che ha scioccato l'intero mandamento, si è verificata all'interno dell'abitazione della 32enne, il cui corpo senza vita è stato ritrovato da uno dei fratelli. Al momento non sono chiare le cause che hanno spinto la donna a compiere l'insano gesto. Forse una storia d'amore finita male l'avrebbe gettata nello sconforto al punto tale da decidere di togliersi la vita. Un solo colpo fatto partire dalla pistola del padre, legalmente detenuta, mirato al petto mentre era distesa sul letto dove l'ha trovata il fratello che ha chiesto immediatamente l'arrivo di un'ambulanza, ma tutto è stato inutile. Sul posto si sono portati anche i carabinieri e proprio militari di Baiano hanno ascoltato amici e familiari della 32enne dopo aver effettuato tutti i rilievi necessari sul luogo della tragedia e raccolto elementi utili ai fini investigativi, anche se la dinamica dei fatti è stata chiara fin dall'arrivo di carabinieri e soccorritori. Tutti hanno raccontato di una persona tranquilla, una giovane donna senza grilli per la testa, che lavorava in una pasticceria sempre gentile con tutti ma che da qualche tempo, pare, sorridesse poco. Secondo chi la conosceva bene il suo era un periodo difficile a causa di una delusione d'amore. La morte della 32enne ha sollevato un dolore enorme nell'intera comunità di Baiano ed in tutto il mandamento. Sono tanti i messaggi che in questione gli amici postano sulla pagina facebook dove ci sono tante foto della giovane donna che appare sorridente anche in compagnia del suo gatto. Un sorriso però si scopre drammaticamente. Nascondeva un dolore, un vuoto, come lascia intendere anche qualche suo posto dove ad esempio parlava di speranza, quella speranza che evidentemente la 32enne aveva perso completamente.